Minaccia il compagno con una pistola a beretta per fargli ritirare la querela per calunnia e gli chiede 1000 euro. Una donna 49enne è stata denunciata in Balconca. Contro l'epidemia di inimicizia, fare entrare l'altro nella propria vita. Il messaggio del Papa al meeting dell'amicizia tra i popoli da domenica alla fiera di Rimini. Intanto volontari al lavoro per allestire gli stand. Dal 24 agosto al 1 ottobre la rassegna di teatro e musica alle città visibili sparsa in sei luoghi diversi di Rimini. Tra gli ospiti anche l'attore Elio Germano. Calcio ieri sera è finita 6 a 0 col Verucchio nella seconda amichevole di precampionato. Riccione piange la scomparsa di Matteo Maffei, ex calciatore e dirigente. Buonasera da Lucia Renati. Lo ha minacciato di investirlo con la sua auto e di mandargli a casa gente pericolosa. avvertendole che non avrebbe avuto problemi a utilizzare la pistola di cui era in possesso se non avesse ritirato una querela per calugna che lui aveva sporto contro di lei. Con una richiesta aggiuntiva di 1000 euro. Una 49enne dell'Est avrà l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria col divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dal compagno. Un italiano over 65. La vicenda arriva dalla Valconca. Quando il compagno ha detto di avere visto la pistola nella casa dove la 49enne aveva vissuto con l'ex marito un pregiudicato lei ha provato a cavarsela consegnando ai carabinieri una pistola a salve. Ma in casa è stata trovata una beretta 70 calibro 7,65 risultata rubata 30 anni fa con 105 munizioni. C'erano anche 10 grammi di cocaina. La donna dovrà rispondere anche quindi di detenzione ai fini di spaccio. E adesso andiamo al meeting. Il Santo Padre nel suo messaggio agli organizzatori e ai partecipanti del meeting per l'amicizia fra i popoli affidato al Vescovo di Rimini ha scritto Il titolo del meeting suona audace. L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile perché va nettamente contro tendenza in un tempo segnato da individualismo e indifferenza che generano solitudine e tante forme di scarto. Rivolgendosi ai giovani il Santo Padre ha esaltato il valore della vera amicizia. In questa ora travagliata della storia il Papa scrive vi incoraggia affinché non venga mai meno la disponibilità a un'amicizia inesauribile perché fondata in Cristo e sulla roccia di Pietro pronti a cogliere il bene che chiunque può portare alla vita di tutti perché le altre culture non sono nemici da cui bisogna difendersi ma sono riflessi differenti della ricchezza inesauribile della vita umana. Possa ognuno dei partecipanti imparare un po' ad accostare gli altri alla maniera di Gesù che sempre tende la mano, sempre cerca di sollevare, di fare in modo che la gente guarisca, che sia felice, che incontri Dio così che crescano l'amicizia sociale e l'amicizia tra i popoli. E allora andiamo proprio alla Fiera di Rimini dove circa 500 volontari in questo momento stanno allestendo gli stand che accoglieranno il raduno di Comunione e Liberazione dal 20 al 25 di agosto. Vediamo. Per me il titolo del meeting di quest'anno suscita curiosità perché sono curiosa di vedere come questo può applicarsi a tutti gli ambiti della vita e le mostre sembrano molto interessanti. Vengo da Brescia, studio a Milano e faccio ingegneria aerospaziale, quinto anno. Siamo qua alle 9 e siamo un po' lontani e arriviamo qua, diciamo le lodi insieme la mattina e poi veniamo qua a lavorare, facciamo un breve incontro all'inizio della giornata per definire i lavori e dirci un po' come sta andando e poi attacchiamo a lavorare. All'una c'è il pranzo e poi lavoriamo al pomeriggio fino alle 6 e mezza. Cioè nonostante mi sia infortunato il piede poco prima di venire ho scelto comunque di venire qua e di mettermi in gioco. Mi fermerò per vedere il meeting perché sono molto curiosa di vedere dopo il lavoro che abbiamo fatto quello che è stato costruito come sarà. Stiamo mettendo i tavoli per l'area ristorazione, la caffetteria e l'area ristorazione. Ho cominciato l'anno scorso, sono rimasta veramente entusiasta perché mi sento proprio uno servo inutile e piano piano si vede la costruzione di questa meraviglia. Questo è il mio terzo anno e non so è sempre stato il mio desiderio comunque mettermi a disposizione degli altri e penso che questo sia il modo più bello per cui questa è proprio la settimana che ti ricarica anche per affrontare l'anno che viene. Io ho quasi 23 anni, faccio il design della comunicazione al Politecnico e vengo da Milano e studio a Milano. Vengo perché mi sento proprio parte di qualcosa di grandissimo ogni giorno che passa e questo mi dà una forza incredibile la mattina per cui veniamo qua. Questa è la mia prima volta al pre-meeting, io sono di Milano ma studio in America, faccio il pre-meeting perché mi hanno invitato è sempre stata una cosa che volevo fare e finalmente non ho avuto l'occasione e mi hanno messo in falegnameria. In questo momento stiamo costruendo una pedana circolare con base esagonale, però la parte un po' difficile è che va montata e rismontata a fine meeting quindi possiamo solo attaccare alcuni pazzi, altri sono da montare sul momento. Mi chiamo Federico, vengo da Milano e studio musica classica, quindi non c'entro con quello che in realtà sono le cose che si fanno tutti i giorni qua al pre-meeting. Si costruisce mostre, incontri, insomma si costruisce la fiera ma si costruisce anche la propria persona con le varie amicizie che si creano nel lavoro. Fatica? È ingiusto, è ingiusto, è giusto. Controlli di polizia, carabinieri e nucleosicurezza urbana della polizia locale nelle strutture abbandonate di Rimini Sud sono stati controllati due hotel, l'ex colonia Enel e un camping dove sono state rintracciate dieci persone, nove delle quali straniere. Tutti sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici, negli ex hotel di Miramare c'erano tre cittadini stranieri, una cittadina italiana, nel camping un cittadino rumeno. Nella ex colonia Enel cinque cittadini stranieri, cinque sono stati espulsi mentre gli altri sono ancora in fase di valutazione in quanto richiedenti la protezione internazionale. Tutti sono stati allontanati da queste strutture abbandonate dove vivevano in situazione di grave degrado. E adesso andiamo dal 24 agosto al primo di ottobre, torna la rassegna di teatro e musica alle città visibili alla sua undicesima edizione. Gli spettacoli sono sparsi in sei location diverse di Rimini, la rassegna alla collaborazione del comune di Rimini e anche il sostegno della regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura. Questa mattina c'è stata la presentazione alla stampa, vediamo. 19 proposte tra teatro e musica. Dal 24 agosto al primo ottobre la rassegna Le città visibili torna a invadere Rimini. Al Teatro degli Atti, al Lapidario del Museo della Città, all'ex Cinema Storia, allo Studio A di Covignano, al Cast Oro Teatro, ex Mulino di Amleto e alle ex Officine Grandi Riparazioni di Rimini. Lo spunto per questa edizione viene dalla tesi di laurea di tre ragazze, Greta Amini, Laura Santoro e Camilla Vespa, dal titolo La cultura non si porta, la cultura è nei luoghi, il caso capitale italiana della cultura. La mission di questo festival, per quel che riguarda il teatro, essendo un festival finanziato dal Ministero della Cultura, prima istanza, punta proprio sul contemporaneo, sulle riscritture dei classici e sulla nuova drammaturgia. Su questo ha la sua forza. Per il teatro, apre il festival giovedì 24 agosto all'ex Cinema Storia, il campione mondiale di Poetry Slam 2022, Lorenzo Maragoni. Poi Dancing, commedia originale di Enrico Sacca per la regia di Gabriele Tesauri, sul mondo delle balere. Il 31 agosto, sempre l'ex Cinema di Via Euterpe, ospita Così è o mi pare, riscrittura per realtà virtuale dell'opera di Luigi Pirandello, di e con Elio Germano e Isabella Ragonese. Roberto Latini, con Venere e Adone, poi Still e Live, che parla di depressione, segnalazione speciale, premio scenario 2021 e vincitore del bando, l'Italia dei visionari, con Caterina Marino e Lorenzo Bruno. Thomas Leardini, con Cardiodrama, scritto insieme al cardiologo Claudio Cuccia, sul rapporto fra medici e pazienti. Maternità è il titolo dello spettacolo di Fanny e Alexander, che sarà al Cast Oro Teatro in Via del Castoro, tratto dal racconto di Sheila Eti. Una donna si chiede che cos'è che la trattiene dal mettere al mondo un figlio. Le persone in sala, con un telecomando, risponderanno ai suoi quesiti. Infine, domenica 1 ottobre, alle 11, alle ex officine grandi riparazioni di Rimini, Work Express, cent'anni di lavoro tra conquiste e treni persi, di Riccardo Tabilio, regia di Michele Di Giacomo, in scena insieme a Tamara Balducci e agli allievi delle classi 4L e 5S dell'Istituto Gobetti di Morciano, con il sostegno di CGL Rimini. Completano il cartellone gli appuntamenti musicali. Partiamo da Georgenes e Emanolde, con il loro doppio concerto, fino poi al concerto omaggio a Neil Young di Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana, e poi finiamo con il concerto di Meg Vesuvia in tour. Si è svolta nei giorni scorsi a Montegridolfo la seconda edizione di L'arte e l'amore muovono il mondo. Il festival, nel piccolo borgo della Valconca, ha l'obiettivo di fare arte in modo originale. Un evento diffuso delle arti e degli artisti. L'amore e l'arte muovono il mondo. È un evento fortemente voluto da Celestino e dalla moglie Fiorella, recentemente scomparsa, per fare arte e parlare di arte liberi da vincoli di business. Quattro giorni dove si è spaziato tra musica, poesia e arte estemporanea, nello scenario di Montegridolfo, che domina tutta la vallata. Grande attenzione anche ad abbattere le barriere che non permettono la fruibilità per disabilità sensoriali, visive, uditive e motorie. Il nostro sogno era quello di girare il mondo. Ho detto, Fiorella, non posso portarti in giro per il mondo, ma voglio portare il mondo a Montegridolfo. E per questo ho cominciato a cercare nel mondo dell'arte, perché l'arte non ha confini, l'arte non ha ideali uno contro l'altro. Cioè l'arte vede solo il bello, generalmente, e da lì sono partito. La manifestazione mette insieme tante realtà, dalla Proloquo alle associazioni Ali di Farfalle e Amici del Museo, dall'amministrazione comunale all'Associazione Rimini per Tutti di Bertino Astolfi, che è salita a dare il suo contributo. Questa iniziativa che porta l'arte all'interno del nostro piccolo borgo e gli dà un tocco di novità, un tocco di geniale per rendere il nostro castello, che era un baluardo militare, un qualcosa legato all'arte, all'arte in genere. Un grande ringraziamento a tutti, alla Proloquo locale e anche a Celestino, che in qualche modo è l'ideatore di questa iniziativa. Quelli di Rimini per Tutti, che sono venuti qui a farci questo grande servizio, con la loro professionalità, e soprattutto per le bellissime parole che hanno avuto per il nostro comune e per il nostro intorterra tutto, che è di tutti anche quello, perché siamo comunque provincia di Rimini. Che cosa vuol dire oggi abitare l'Appennino? Quali sono le contraddizioni di un territorio complesso, ricco, ma che rischia lo spopolamento? Se ne parla da oggi fino a domenica al Festival Habitat Appennabilli, una tre giorni di incontri e tavole rotonde, musica e buon cibo, a cura dell'Associazione Chiocciola Casa del Nomade. Vediamo. Arrivato alla sesta edizione, Habitat torna a parlare di territorio, di appennino e di visioni di vita diverse. Tema di questa edizione, che si svolge da venerdì 18 a domenica 20 agosto, contraddizioni. Un'occasione unica per raccontare la grande spina dorsale dell'Italia nella sua reale complessità. Il Festival si avvale dei fondi ottenuti nell'ambito del progetto Habitat, vincitore di Jutz, il bando per le politiche giovanili dell'Emilia Romagna. Il progetto mira ad aumentare il coinvolgimento dei giovani, meno partecipi, residenti nel territorio di Pennabilli e dell'Alta Valmarecchia. E quindi il progetto prevedeva tutta questa serie di azioni. Una delle cose più belle che secondo me va sottolineata è il fatto che all'inizio di questo progetto abbiamo attivato una call per giovani che volevano essere partecipi in prima persona e seguire per tutto l'anno il progetto. Abbiamo ricevuto una trentina di candidature e da queste candidature abbiamo selezionato due ragazze che una di ritorno a Pennabilli, quindi originaria di Pennabilli, ma che è tornata apposta per questo progetto, a vivere in questo territorio, e una persona invece che ha scelto di venire a vivere qua e grazie a questo progetto ha avuto anche l'opportunità di fermarsi per un periodo più lungo. Quest'anno abbiamo scelto questo tema, Contradizioni, in parte perché sentiamo che la nostra valle quest'anno ha avuto moltissimi momenti in cui le contraddizioni sono emerse e per cui sentiamo il bisogno di riflettere su quello che sta accadendo qui anche mettendolo in comparazione con quello che accade in altri territori. Quando parliamo di contraddizioni diamo solitamente un'accezione negativa a questa parola ed effettivamente sono delle forze contrarie che in un qualche modo annullano e che portano anche in un qualche modo ad essere meno coesi e a innescare dinamiche di conflitto. Ci interessa dunque soffermarci su questa parola proprio per capire cosa è una contraddizione ma anche per provare ad immaginarla nella sua accezione positiva e quando dico accezione positiva è proprio anche la possibilità, regalarci la possibilità anche di essere contraddittori dal momento in cui contraddizione può essere anche un atteggiamento che ci aiuta a cambiare idea, a mettere in discussione le nostre idee. Lutto nel mondo del calcio a Riccione. Riccione piange la scomparsa di Matteo Maffei prima calciatore di diverse squadre del territorio giocando anche in Serie D con la squadra della sua città poi dirigente della Riccione Calcio 1926. Maffei, padre di famiglia e per tutti maffo il 4 settembre prossimo avrebbe compiuto 43 anni. Seconda amichevole di precampionato ieri sera per il Rimini sul campo del Verucchio con pagine di promozione i biancorossi si sono imposti per 6-0 a segno a Cursi e Rossetti nel primo tempo poi nella ripresa Selvini, Tonelli, Lamesta e Cernigoi. Al di là del divario tecnico tra le due squadre il tecnico Raimondi ha visto buoni segnali dalla sua squadra. Sentiamo. Mister, un buon test per il Rimini contro il Verucchio tante buone indicazioni, tante belle azioni in velocità abbiamo visto anche qualche giocatore che è arrivato proprio da poco in campo. Sì, fa piacere vedere magari gente che è arrivata da poche ore fa e vuole subito mettersi in discussione. Credo comunque che quando una squadra prova e ripete e cerca comunque di, come ho detto prima, di provare quello che fa in settimana l'allenatore fa piacere perché più che altro si stanno creando delle sinergie importanti in questa squadra qui con gente che lavora in un certo modo che quello che stiamo provando è cercare di arrivare a settembre con allenamenti importanti che ci permettono di una squadra amalgamata una squadra che sappia quello che deve fare. Anche se si trattava di un amichevole abbiamo visto anche tanta grinta. Sì, sì, i ragazzi ci tengono ci tengono a fare bella figura c'era tanta gente e quindi è importante anche per loro la gente gli piace quando la squadra trasmette qualcosa in più e credo che questo sia merito soprattutto dei ragazzi che vogliono dimostrare di esserci vogliono dimostrare di far bene. La sensazione è che sia un Rimini che appena può cerca di verticalizzare giocate in velocità abbiamo visto anche degli attaccanti anche quelli giovani insomma si sono comportati piuttosto bene Selvini a Cursi. Sì, sì quello che proviamo a fare è sicuramente cercare di dominare le gare non sarà mai facile ci saranno squadre che ci impediranno di far questo ma sì essere verticali quando bisogna essere verticali e cercare di mantenere e andare magari per via orizzontale quando la gara lo richieda. Domenico un test più probante a Mantova. Sì andiamo ad affrontare una squadra forte non solo individualmente se non nel collettivo una squadra che gioca molto bene a calcio quindi per noi sarà un test importante. E anche oggi il Rimini annuncia un nuovo arrivo per quanto riguarda il mercato il centrocampista 23enne Livornese Cristian Langella cresciuto nelle giovanili dell'Empoli ha esordito in sci a 17 anni col Pisa nell'ultima stagione ha giocato col Cerignola per lui un contratto biennale con opzione per il terzo anno e intanto sono stati resi noti gli orari delle prime 5 gare di campionato in nessuna delle quali il Rimini giocherà di domenica l'esordio con l'Arezzo sarà infatti venerdì primo settembre alle 20.45 e secondo turno sabato 9 settembre alle 18.30 con la Torres a Sassari adesso chiudiamo purtroppo con una brutta notizia arrivata da un'agenzia pochi minuti fa la leggo insieme a voi nella notte tra giovedì e venerdì a Rimini una turista ventenne di Milano ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre giovani la ragazza in vacanza in Riviera avrebbe accettato la compagnia di tre ragazzi conosciuti da poco tempo e con loro si sarebbe recata volontariamente nel luogo dove poi è stata abusata la violenza di gruppo si sarebbe consumata in un appartamento le verifiche mediche non hanno dato esiti certi probabilmente perché le tracce organiche sono state lavate via dalla ragazza che comunque non ha saputo dare indicazioni precise sulle identità dei tre ovviamente tutti gli aggiornamenti anche su questa notizia li potete trovare sul nostro sito newsrimini.it e su tutti i nostri appuntamenti informativi noi chiediamo qui questo telegiornale grazie dell'attenzione e buona serata Grazie a tutti